Benvenuti ragazzi e bentornati con questo nuovo video Oggi sono in hype allucinante perché dopo circa 6 mesi più o meno di continui posticipazioni Visto che una volta gli ci voleva più tempo per sviluppare il gioco E un'altra volta gli ci voleva più tempo per pubblicarlo e produrre i dischi E un'altra volta gli sviluppatori non avevano abbastanza tempo per andare al bagno L'ultima volta ha deciso di metterlo lo stesso giorno del dato di uscita di PS5 E giustamente per non farsi pissare dalla uscita di PS5 E ma magari se lo scalassimo ancora tanto ormai E allora hanno scalato a 10 che domani A quanto pare la maggior parte dei negozi sia online che fisici hanno rotto il day one Beh è arrivato prima Visto che molti gli è arrivato prima Hanno deciso anche digitalmente di sbloccarlo prima Gli youtuber l'hanno avuto prima Quindi più o meno un po' di gente ce l'ha già avuto prima E quindi a questo punto penso che domani non lo riceverà più nessuno Perché l'avranno già ricevuto tutti oggi Il pacco è abbastanza importante perché è una cosa così Non so se ci sta in inquadratura Allora Teoricamente per chi lo avesse preordinato da GameStop Io adesso non sto a fare tutta la fila di prenotazioni Perché sono passato da tipo 4 store diversi Perché una volta me l'hanno annullato L'altra volta l'ho annullato io E una volta costava troppo L'altra volta era fake Tra una cosa e l'altra l'ho annullato Cioè l'ho passato 2-3 negozi Forse anche un fine di più E quindi alla fine sono riuscito a trovare da GameStop E chi lo avesse annullato da GameStop Teoricamente Davano un fumetto extra Allora io ho smembrato mezza scatola Perché si è sfilata già di sua Allora qua vedo che c'è il fumetto Che sicuramente pensavo fosse più grande Il fumetto invece è una cosa piccolina così Allora ho smembrato mezza scatola Mi sembra che il fatto è che metà della scatola è qua Quindi Ok allora L'edizione è quella PS4 Eccola qua Perché Perché si Non c'è ancora la versione PS5 E l'unica che ho trovato era quella PS4 Perché per Xbox One è andata Poco male Tanto poi ci sarà l'aggrading gratuito Allora Parliamoci un attimo Allora questo gioco qua È abbastanza atteso Dopo che è stato annunciato Nel 2013 C'è una paniglia Mamma mia se pesa Mamma mia Ok La mettiamo qua Ok Quindi Allora Quindi il fumetto l'abbiamo visto L'era Meh Pensavo sarebbe stato più grande Penso che si sia Questa cosa l'idea Prima Qui hanno fatto effettivamente la maniglia Ok Si apre Si apre libretto così In cui troviamo Non posso Posso anche distenderlo Sì Allora Perfetto Proviamo il gioco Ci arriviamo subito Allora Andiamo qui Visto che è tutto diviso Scompartimenti Qui abbiamo Degli sticker Sperando che li metta a fuoco Il mister qua Comunque sono Degli Sticker Normalissimi Con calma Allora Poi abbiamo Delle toppe Ok Quindi abbiamo Queste le voglio aprire Perché Sembra Figo Allora Abbiamo delle toppe con Samurai Questo E la toppa di Night City Che non si vedono mai nella vita Quindi Tipo Così Vorrei mettere a fuoco Uno per una Teoricamente Molto Molto carine Poi abbiamo Ah sono delle spill Tra l'altro Belle Con scritto Night City Hit E Militech Sono Molto molto belle Senza che mi cadano Aveva un suo verso Dove stare Sì Ok Questa Questa È pesante No Raga Che figata È un Porta chiave A forma di auto Con Cioè Tutto in metallo Con le ruotine Con le ruotine Che si muovono Tutto in metallo È bello Pesantuccio Devo dire Che fa la sua Porca figura Che è proprio Proprio bello Ok Adesso Scatolare Tutto questo È difficile Poi c'è L'effettivo Artbook Che È veramente Un artbook Bello Questo Molto Molto Bello Che fa Ma anche un po' Come fosse Un po' Di declan Perché C'è qualche Inserzione Pubblicitaria Qualche Spiegazione Abbiamo Un po' Come fossero Scatti Delle Introduzioni Al gioco Al mondo Magari Le varie fazioni I vari personaggi Le varie Location Molto 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 Bello Io sono Un amante Degli artbook Soprattutto quando sono Di queste proporzioni qua Che secondo me È ottimo Per i collezionisti Penso che sia Il top Del top Abbiamo La Steelbook Steelbox Molto Molto Bello Vuoto Ok E qua Ci spoiler Che avrà Due dischi Ragazzi Qua ci spoiler Che avrà Due dischi Come The Last of Us E come Red Dead Redemption 2 Quindi questo vuol dire Che ci sarà il disco di installazione E il disco di gioco Mamma mia C'è questa bustina sigillata con Night City PD Quindi immagino Come busassi Infatti c'è scritto Prova Ufficio Investigazione Oggetto numero 12 Orario di raccolta Descrizione Una prova Una copia Della guida Ah ok Quindi qua abbiamo Guida Night City Con una trama Un po' Rovinata C'è la stampa Hanno fatto come se fosse La cartocciata Rovinata Per dargli Una sensazione Di usato Come effettivamente Fosse stata raccolta Da una Scena del crimine Infatti qua si vede Che c'è la guida Però con Delibali di scarico Tipo da miretta Qua La roba cancellata Appunti vari Cosa cerchiate Cioè proprio come Fosse stata utilizzata Da qualcuno Con la mappa Molto molto figo Veramente Molto molto figo Guida nei Night City Per i turisti Hanno cancellato Turisti E hanno messo Nomadi Con scritto Terza edizione Quindi Figo 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 Allora qua ci sono Le maniglie Per prenderla Poi 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 Allora Ah ok C'è da fare così Quindi Ok Abbiamo il gioco Signori Chi l'avrebbe mai detto Che sarebbe arrivato Nelle nostre case Questo fantomatico gioco Tanto ma tanto Atteso Tanto tanto Atteso Allora Io non sto appena Ne leggere Ne scrivere Faccio un tagliettino Chirurgico qua Che non è servito niente Perché io Non avendo unghie Non riesco a usare La linguetta Non riesco a recuperare La linguetta Quella apposta Per togliere Le cose umanamente Allora Abbiamo il gioco Che si presenta Così Con la copertina Di carta Così Abbiamo L'effettivo Gioco Con Effettivamente I due dischi Uno E due Quindi abbiamo Il playdisk E il datadisk Benvenuto Night City Qua c'è per il supporto Tecnico E abbiamo Altri sticker Ne vuoi ancora Una pubblicità Allora Shop Di gioco Cioè Di CD Projekt Red Per varie Action figure Poster Della roba Del genere Abbiamo Questo Malloppo Qua Questo pacchetto Come fossero Cartoline Ok Ok Questa rimane Mezza coperta Comunque È un bar Col bigliardo Abbiamo Questa foto Di una via Centrale Di Night City Tipo Abbiamo Questa Diciamo Panoramica Dall'alto Della costa Di Night City Poi abbiamo Ancora Queste due cose qua Che sono La mappa Immagino Sì Il poster Mappa Ok Dietro È vuoto Eccolo qua Il bianco Il bianco e nero Un libricino Piccolo piccolo Niente di speciale E niente Quindi io direi che qua Possiamo chiudere Tutto Cazzina Che non riuscirò Mai più A richiudere Ok Mettiamo Tutto di qua Intanto Poi metterò Tutto in ordine E mo Tocca Lui Tocca Al paese Che Vabbè È palese Che non è C'è un figure Ok Ok Oh mamma mia Qua scelta Apparire Ah Il polisterone A rilievo Adesso non si vede Perché è tutto Super sopra Esposto Ma c'è scritto Cyberpunk 2077 C'è il logo del gioco Quindi GG Allora Ce la posso fare Eccolo qua Ok Perfetto L'action figure È veramente grossa Ed è divisa in pezzi Quindi qua Abbiamo la base Che mettiamo Qua Abbiamo 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 la moto Che Sta investendo Il nemico Che Dove Andare a incastrarsi In qualche modo Adesso controllo E abbiamo Il personaggio Principale Che sta Effettivamente Tipo Combattendo Tantissimo Con tantissimo Cattiveria Allora Io c'ho Il posto qua Per i piedi Ok Perfetto E Tu Vedo che c'hai Un Cosa qua Per farti Infilzare Ah ok E l'ho messa Così Con la scritta Frontale Cyberpunk Eccola qua L'action figure Bella e propria Molto bella Paralmio Secondo me Una delle action figure Le collette più belle Che abbiano mai fatto E niente La collettora Qua Abbiamo tutto Quello che Ci hanno Ci hanno dato Il portachiavi Le spillette Le toppe Vari E gli adesivi Che sono qua Che sono Poi c'è l'action figure La mappa La guida Cioè Il compendio del mondo Cartoline Beh Ovviamente Il gioco In sa per sé Che ho perso Ecco E abbiamo qua Il fumettino Steelbook Le prove Nartbook Il gioco Quindi direi che Non è una collettora Proprio piccola Anzi Ho visto Collettori più costose Con meno roba dentro Quindi direi che È un ottimo Un ottimo pacchetto Che ci offre Di tutto e di più Ora devo solo trovare Dove sono i codici di gioco Perché ci dovrebbero essere Di codici Che non sono qui dietro Quindi boh Adesso Vedrò Com'è il gestione Ma con il cyber Perché comunque Dovrebbe essere Un giochettino Non lungo Ma un filino Cioè Un po' E un po' Mettiamola così E Sono tanti I sticker qua Perché sono veramente tanti A questo punto Li apro Perché Sono rimasto incuriosito Però penso Ci saranno le stesse stampe Delle toppe Più altra roba Vedo qua Sono tipo come foto D'azienda dei giochi Penso siano dei locali Dei luoghi Dei gruppi Qualche manifesto Comunque vedo che Comunque è roba interessante Niente male Niente male Allora Niente Io direi che vi ho fatto vedere tutto Perché non vedo altro Da farvi vedere in confezione Quindi penso di avervi Di aver fatto vedere tutto Io vi ringrazio Della visione Della compagnia Fatemi sapere Cosa ne pensate Di cyberpunk Nei commenti Come il gioco Se anche voi lo aspettavate Se non lo aspettavate Se secondo voi È un gioco sovravalutato Come molti dicono O se è giusto Avere tanto hype Così per questo gioco Io vi ringrazio Trovate altri video Nelle schede Bella Grazie a tutti per la visione Grazie a tutti